Al professor Gustavo Zagrebelsky ha segnato il premio Maestro di Bere il Territorio 2016 per la quindicesima edizione del concorso letterario nazionale indetto dall'associazione Go Wine. La cerimonia si è svolta alle 10.30 di sabato 2 aprile all'interno della sala Beppe Fenoglio di Alba. Dottor Zagrebelsky, per un signor giurista come lei, abituato ai rigori formali della legge del diritto costituzionale, essere riconosciuto come Maestro di Bere il Territorio come è stato possibile, ci racconti com'è andata? Le racconto come ho cercato di collegare il fatto di essere un giurista con il bere e con il territorio. Allora ho fatto un certo sforzo, devo dire, per trovare i collegamenti, ma intanto cominciamo col dire che il territorio, che cos'è il territorio? Se io fossi un albero direi che il territorio è quella zolla di terra in cui ho le mie radici, l'ambiente fisico in cui vivo, ma per un essere umano il territorio è qualcosa di molto più complesso, è fatto di panorami, di ambiente, ma è fatto anche di esperienze, di rapporti umani, il territorio non ci pensiamo, è il luogo dove si vive, ma il luogo per una persona non è fatto solo di elementi fisici, è fatto anche di elementi spirituali. Allora bere il territorio vuol dire imbibirsi, cos'è bere? Impregnarsi, imbibirsi dell'ambiente in cui ti è dato di vivere, di crescere, di svilupparti, di declinare e poi anche di arrivare alla fine, ecco questo è il territorio. Bere, bere, lo dicevo prima, è imbibirsi, ma poi aggiungo, naturalmente essendo qui ad Alba, bere fa subito pensare a che cosa si beve prevalentemente. Il buon vino. Allora, io ho scritto un libro qualche anno fa che porta il titolo Intorno alla legge, e il sottotitolo dice il diritto come dimensione del vivere comune, cioè della convivenza. Convivenza possiamo dire anche del convivium, della convivialità. Allora lei ha già capito dove voglio arrivare. Non c'è riunione tra amici che si possa svolgere soddisfacentemente senza avere una buona bottiglia di vino in comune. Il vino serve appunto a sciogliere i rapporti, a creare convivialità. E così anche il diritto dovrebbe essere, agevolare i rapporti umani e renderli sopportabili e possibilmente anche piacevoli. Approfittiamo della sua presenza anche per chiederle un po' qual è la situazione. Si parla spesso di riforme costituzionali. Dal suo punto di vista, diciamo, qual è lo stato dell'arte? Lei vede uno scenario incoraggiante o forse ha qualche perplessità? No, forse lei sa che io sono tra quelli che hanno visto con contrarietà le riforme che si stanno facendo. Non perché non si possano fare o non si debbano in qualche caso fare delle riforme, ma la parola riforma è una parola vuota. Riformiamo sì, ma in che senso? Allora qui le possibilità sono due, o rafforzare il potere, io dico con una parola ci capiamo, oligarchico, il potere dall'alto di centri di potere che non vediamo e che poi manovrano i governi e sono i poteri che hanno a che vedere con gli interessi finanziari, che stanno in Italia ma stanno anche fuori. Ecco, allora una riforma che favorisca il potere dall'alto. Io sono contrario a questo perché sono legato all'idea di democrazia così come è scritta nella Costituzione, cioè una democrazia partecipata, cioè dal basso. E qui si gioca una partita secondo me molto importante e anche pericolosa per la democrazia, non tanto per la riforma costituzionale, quanto per l'unione, riforma costituzionale, legge elettorale, che avrà già avuto, ma avrà ancora di più come conseguenza che i nostri rappresentanti, non saranno tanto rappresentanti nostri, ma saranno rappresentanti di poteri dall'alto. una sola Camera, eletta con un sistema elettorale con grande premio di maggioranza, con i candidati scelti dall'alto. Si dice che i nostri parlamentari non sono eletti ma sono nominati. Nominati vuol dire nominati da qualcuno da fuori. Grazie.